No, non puoi lasciare il mondo senza questa tua perla di saggezza. Angelina, non fare così. Angelo, perché fai così? Ti prego, non fare così. Perché fai così? Illumina l'universo YouTube con le tue perle di saggezza, ti prego. Salvaci. Disgraziata. Qui abbiamo un abitante della valle che scende dall'universo. Uno dei più sani che c'è qua dentro. Qui abbiamo un bancomat, qui abbiamo un uomo che lavora e che di corsa viene a comprare qualcosa. Si sbrighi, signorina, che ha ancora la tuta. Chiama cassa, cassa, cassa. Reclama, dice, mi ha chiesto. Mi ha chiesto i gamin, è più che vuole lavorare. Sì, tutta la sunzicca. Guarda, guarda. Buongiorno Angela. Non c'è, non c'è, non c'è nessuno. Non c'è nessuno oggi. Sì, l'Angela c'è, ma sai com'è? Non è un fantasma. C'è ma non c'è. No, no, non è un fantasma. No, vediamo. No, no, c'è anche carne. C'è anche carne. Vedete, ci fa vedere gli annunci funibri di oggi? Allora, scorriamoli in ordine. Abbiamo questo signore, questo qui. Ma che lascerà in pace? Madonna, bisogna tenerle su viscore. E come si dice in italiano? Viscore, come si dice in italiano? Traduca. Bisogna tenersi i viscore. Ehi, Bancomat, fai ciao a quelli di YouTube. Fai i gestacci con la maglietta alla Piccadilly. Io sto filmando. Ho le prove che tu fai il fuck ai clienti. Buona giornata, ciao, ciao. Ciao, Dario. Ti posso... Ho le prove che tu fai con culo i clienti, che gli dici conuto. Lei cosa ne pensa di questo? Lei non pensa, ho capito. D'accordo, d'accordo. Ecco, vediamo una faccia d'animo buono. Alla faccia, dalla faccia dell'animo buono. Parlano tutti come bossi oggi. Alla faccia, da faccia, da faccia.